Recensione Dallop FX500, un nuovo Best Buy e arrivato in città, facile, maneggevole e immediata, con un'ottima potenza e un ottimo back, tanto verità al servizio, quindi se cercate la vostra prima profiliata a 100% con un focus sulla potenza, lei potrebbe essere un'ottima scelta. Scrivete cosa ne penso nella recensione completa che trovate adesso online sul card YouTube di Racket TV.